Salve a tutti. Dopo l'avvio finalmente del concorso ordinario per la scuola dell'infanzia e primaria è pronto ai nastri di partenza anche il concorso ordinario di scuola secondaria. Dopo le modifiche introdotte dal decreto legge sostegni bis il governo infatti è provveduto alla modifica del bando di concorso anche per la scuola secondaria. Il decreto legge sostegni bis infatti aveva inserito una modifica nel meccanismo di svolgimento del concorso come sappiamo eliminando la prova preselettiva e rimodulando la prova scritta limitandola ad una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla. Quindi è intervenuto il ministero dell'istruzione modificando il bando di concorso ed introducendo queste modifiche. Tuttavia come previsto dal decreto legge sostegni bis sono rimasti fermi i termini per la presentazione delle domande al 2020 così come originariamente previste dal bando pubblicato a suo tempo. Pertanto non potranno essere presentate nuove domande di partecipazione a questo concorso ordinario. L'unica eccezione è rappresentata dalle classi di concorso STEM per le quali il decreto che rettifica il bando prevede la riapertura dei termini di presentazione delle domande e relativamente a queste classi di concorso. Quindi sarà emanato a breve un nuovo decreto che individuerà le date entro le quali potranno essere inviate le nuove domande. Proprio per queste classi di concorso saranno anche individuati i nuovi posti da inserire nel contingente dei posti messi a concorso ad integrazione di quelli originariamente previsti dal bando del 2020. In tutto ciò però si sono perse le tracce ancora del concorso straordinario abilitante per il quale non si ha nessuna notizia. Vedremo più avanti se si avranno novità. A presto, arrivederci a tutti. Grazie a tutti.